Amici bentornati sul canale Nome Milagiri Laborazioni Autosportive. Oggi volevo presentarvi appunto una macchina un po' particolare, un po' diversa dal solito, l'avevamo già fatta vedere in un video precedente però era nascosto insieme un'altra macchina, ci sembrava giusto e doveroso riprenderla e fare un video solo su questa vettura. Questa è un Alfa Brera con un motore 3200, il V6 a 60 gradi, motore che eroga 260 cavalli più o meno a 322 Nm di coppia ed è una vettura che raggiunge facilmente i 250 all'ora. È una macchina molto particolare, è stata costruita dal 2005 al 2010 presso gli stabilimenti della Pininfarina ed è stata disegnata da Giugiaro. La caratteristica di questo motore, ne hanno fatti appunto 4-5 versioni diverse, però questo qua è il 3002, come dicevo prima è un V6 a 60 gradi e con basamenti in alluminio e iniezioni dirette. La caratteristica di questo motore è che è stato probabilmente ai tempi, è stato fatto un accordo con la General Motors, quindi non è un motore totalmente Alfa Romeo ma è un motore prodotto dalla Holden che è una consociata del gruppo General Motors e la Holden è una azienda australiana, quindi ai tempi hanno adottato questo tipo di motore probabilmente sfruttando delle sinergie economiche con la General Motors. Io personalmente l'ho guidata e devo dire che essendo un motore aspirato dà delle soddisfazioni, tira in maniera incredibile, non ha vuoti, non ha buchi, è un motore veramente bello, pastoso, difficile trovare questo genere di qualità su motori odier. Diciamo che fa onore al marchio Alfa Romeo nonostante che non sia un motore prodotto dalla casa di rese. Venendo nel dettaglio a questa macchina, questa macchina diciamo un cliente che curiamo da diversi anni, ha acquistato questa macchina parecchi anni fa ed era una macchina totalmente, come dire, alla fast and furious, proprio i classici lavori che noi generalmente odiamo. Era stata proprio come si suol dire in gergo pastrugnata, aveva un paraurti anteriore, un paraurti posteriore veramente fatti in maniera eccessiva, pacchiana, troppo bassi, aveva una tapezzeria interna orribile, di un colore orribile e poi all'interno era piena di lucine, led, ne aveva di tutti i colori, quindi quello che abbiamo cercato di fare insieme al cliente, il cliente era un amante di questa macchina, gli piaceva come motore, probabilmente motore sicuramente la macchina è sana, però esteticamente era veramente conciato in una maniera che fuori moda, è come un vestito fuori moda, gliela abbiamo piano piano, gliela stiamo risistemando, ci sono ancora tante parti che probabilmente bisogna metterci le mani, però ad esempio abbiamo rifatto completamente gli interni in pelle, lui li ha voluti in questo colore con il logo Alfa Romeo sul poggiatesta, quindi già qua rispetto alla situazione precedente che avevano delle finiture azzurre, rosse, veramente inguardabili, già qui abbiamo rimesso le cose abbastanza a posto, pelle diciamo di ottima qualità, abbiamo rifatto appunto sia i sedili anteriori che posteriori e questo l'abbiamo sistemato. All'interno avevano verniciato queste parti in colore della carrozzeria, quello che abbiamo fatto ad esempio queste modannature qua e anche qua sotto mi sembra anche qui e anche erano piene di led, quindi abbiamo dovuto prendere i pezzi, togliere i cablaggi, stuccare le varie parti e ovviamente raccordarci con quello che era già stato fatto che più o meno ci può ancora stare, diciamo una cosa caratteristica non eccessivamente invasiva, quindi abbiamo rimesso a posto l'interno come doveva essere. All'esterno, quindi chiudiamo qua, all'esterno abbiamo come dicevo rimontato il suo paraurti originale che non è stato semplice trovarlo, abbiamo mantenuto la griglia nido d'ape perché è anche la parte sotto perché queste non sono eccessivamente invasive, quindi abbiamo riverniciato la parte posteriore però questo diciamo che sì non è originale però non dà nell'occhio più di tanto. Quello che purtroppo secondo noi però da un puntista economico diventa oltremodo costoso, per il momento rimane così, è la minigonna che è la parte diciamo sotto questa che è stata in gergo è stata raccordata resinandola alla carrozzeria. L'ideale sarebbe toglierla ma il problema è che se fosse stata montata regolarmente la si toglieva quindi con i rivetti e comunque andava a sovrapporsi più o meno su questa, sulla fascia del longarone dove c'è la battuta della portiera, era abbastanza semplice e ripristinare il diciamo lo status quo. In questo caso per poterla togliere bisogna proprio andare a agire anche sullo stucco quindi andare poi significa andare a riverniciare le due fiancate, quindi per il momento a malincuore per un discorso economico più che altro la lasciamo così però prima o poi anche questo sarà un tipo di lavoro che dovrebbe essere fatto. Abbiamo sistemato tutta la parte, ad esempio il lavoro che abbiamo fatto adesso, oltre all'assetto che ovviamente necessitava di un upgrade dati chilometri perché non ha tantissimi chilometri però insomma diciamo che era arrivato il momento di rimettere le mani sull'assetto, abbiamo montato quattro bilsten B6, quindi abbiamo mantenuto le molle originali e abbiamo montato degli ammortizzatori monotubo, olio gas, al posto dei bitubo che erano quelli originali che erano arrivati un po' alla frutta. Quello che abbiamo fatto sempre nei pasticci che avevamo fatto precedentemente, non so se si notano queste specie di, ai tempi si chiamavano angel ice, queste specie di anelli che si illuminavano e che erano stati veramente montati a livello elettrico in una maniera, cioè qua davanti c'era una serie di cavi di fili che era una roba impressionante, quindi abbiamo dovuto togliere via e andare a ricostruire la parte dell'impianto elettrico, qui addirittura avevano aperto i fari per poterli montare, cosa che noi sconsigliamo assolutamente, quindi quelli li rimangono in opera, abbiamo ripristinato tutto l'impianto di illuminazione rimontando perché mancavano proprio i supporti per le lampadine di posizione e adesso anche anche questo lavoro qua è a posto. Quindi come dicevo è un progress che va fatto con l'obiettivo di portare poi pian pianino quando andremo appunto a sistemare lo spoiler posteriore, le fiancate, una volta fatti questi ultimi due tre lavori che ovviamente hanno un certo peso economico direi che la macchina la possiamo considerare perfettamente, cioè vorremmo portarla il più possibile simile all'originale. Per il momento mi sembra che ci stiamo riuscendo, l'estetica generale comunque è migliorata tantissimo e speriamo appunto in un tempo ragionevole di completare il lavoro. Io direi che per il momento anche su questo tipo di vettura abbiamo detto tutto, se avete delle domande chiamateci pure in sede allo 027383175, come consiglio tutte le volte andatevi a vedere il sito www.9000giri.it, soprattutto nell'archivio elaborazione dove troverete chiaramente anche questa vettura con il relativo video e soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Saluti, alla prossima!